Poi è accaduta una cosa, durante il lockdown, il primo lockdown, a parte, vabbè, incredibile, e ricordandolo vorrei anche ricordare magari le persone che abbiamo anche perso a causa di questa situazione. Però ecco, in quel momento lì era pieno di dirette, no? Noi musicisti eravamo molto pieni di queste dirette Facebook, Instagram, insomma, con i social. A un certo punto un giornalista, non voglio dire nomi, un giornalista, un critico rock, mi chiamò in una diretta per invitarmi la settimana successiva in diretta nella diretta, insomma, con Nick Rose dei Duran Duran. E mi dice, beh, ovviamente hai una settimana di tempo per preparare il brano, quindi ci vediamo la prossima settimana. Addirittura il pubblico in diretta scelse il brano, Save a Prayer. E quindi ecco qui che adesso lo troviamo qua in concetto. Grazie. Grazie. Applausi. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.